Io credo che bisogna brindare alla cultura e questa interpretazione della nostra tradizione più cara della Madonna del Conforto è un'interpretazione moderna nel linguaggio del colore. La Madonna del Conforto si veste d'arte contemporanea. A reinterpretare la sacra immagine venerata dagli aretini da oltre due secoli è stato infatti l'artista tedesco Klaus Karl Markens. Le masse rammentano la Madonna del Conforto in un linguaggio diverso che però sarà più comprensibile delle solite stampine che sono un po' dovunque nelle case aretini. Il pittore per descrivere lo straordinario bisogno di conforto dell'umanità per la crisi dovuta alla pandemia ha reinterpretato in chiave contemporanea l'effigie dando così vita a Conforto un acrilico su tela di 40x50. È un quadro di un autore importantissimo, Klaus Karl Markens, espressionismo astratto, un nostro dono, dono mio personale e del mio socio Giuseppe Simone Modeo. Sua eccellenza venne a suo tempo appunto sul nostro invito a vedere la mostra e rimase appunto folgorato dai colori mariani che comunque esprimevano chiaramente, anche se di tratto c'è poco, la mera pennellata però esprimeva chiaramente il rinvio e il rimando alla Madonna del Conforto e quindi Sua Eccellenza poi in un contatto secondario ci ha permesso di donare alla diocesi l'opera dell'artista.